oggi vi parlo delle degli ombretti in crema della color della linea color shock della kiko questo è lo 04 decisive stone questi ombretti della kiko sono un po troppo come dire molle se prendete un po in più di colore si vede di più passiamo allo 06 lagoon blu questo è il packaging cioè la scatola vedete color shock kiko eccetera il numero lo vedete sopra 06 lagoon blu qui sotto vedete il codice a barre e i e gli ingredienti questo è il pack della scatola qua vedete in alto e prima il colore qui sotto vedete il numero però non c'è scritto il nome quindi il nome purtroppo lo vedete solo sulla scatola questo è il colore come dire sta venendo giù prendendo più prodotto si ha questo risultato più pieno come qualità però non mi piacciono proprio fanno veramente schifo e anche il pack della confezione per il resto comunque dato un po troppo molle rispetto agli altri e ancora più molle di quelli della kiko quindi non mi dico cioè scusate mi sono sbagliata questo della kiko è ancora più molle di quelli della essence perché tanti della s sono molle tranne qualcuno che è duro finora il miglior ombretto in creme è stato quello di chanel finora non ho trovato nessuno di di altra qualità eppure vorrei provare quelli di dior gli ombretti in creme di dior però voglio aspettare prima che c'è un colore che mi piaccia magari se mi fanno un verde acqua un colore rosino o un lil o un azzurrino chiaro magari ci faccio il pensierino a prenderlo 07 caribbean turquoise io ne ho comprati quattro perché non sapevo sinceramente che fossero così molle questo è il colore e questo è il risultato questo mi piace molto come tonalità di colore ultimo questo 08 fresh mojito questo come vedete un verde verde molto chiaro mi piace molto anche questo anche se ovviamente è sempre la solita cosa sono un po molle li potete tranquillamente usare però diciamo siccome questi sono usciti in una collezione estiva per usarli al meglio la cosa migliore sarebbe poi fissarli con un ombretto simile ombretto però in polvere simile la cosa brutta se fate questo con l'ombretto in polvere è che la brillantezza dell'ombretto in crema non esiste più cioè non la vedete più perché la bellezza di usare un ombretto in crema è che è più brillante rispetto a quelli a quelli in polvere quindi diciamo vedete voi poi quello che volete fare vedete voi aspetta 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 se guarda